Come Ministero negli anni stiamo investendo sempre più fondi in tutto quello che è il mondo dell'audiovisivo con un'attenzione particolare alle sale e parte proprio questa grande campagna per riportare la gente al cinema perché andare al cinema è l'unico grande modo per poter vedere un film, il cinema è magia.